I carabinieri stanno completando gli accertamenti sul tragico incidente avvenuto ieri a Mozzate e costato la vita a un 36enne residente in paese. La procura di Como ha aperto un'inchiesta e il conducente del camion coinvolto è indagato per omicidio stradale. Il mezzo pesante è stato sequestrato. L'incidente è avvenuto sulla Varesina in un tratto fuori dal centro urbano. La vittima, Saida Kramur, stava camminando a bordo strada in un tratto senza marciapiede ma dove è comunque possibile il passaggio dei pedoni. Sembra che stesse rientrando a casa, probabilmente dopo aver fatto la spesa. Secondo i primi accertamenti dei militari dell'arma di Mozzate, il camion in transito avrebbe perso il braccio stabilizzatore. Il supporto avrebbe colpito in pieno il 36enne, ferito in modo gravissimo. Il conducente del camion si è reso conto di quanto accaduto, si è fermato e ha chiamato i soccorsi. Sono intervenute ambulanze e automedica del 118 ed è stato inviato anche l'elicottero, ma per Saida purtroppo non c'è stato nulla da fare. I carabinieri di Mozzate hanno effettuato i rilievi e stanno completando gli accertamenti sulla dinamica dell'incidente. Il corpo del 36enne, originario del Marocco e residente a Mozzate, è stato restituito alla famiglia per l'ultimo saluto.